Per la rubrica Dentro la notizia questa settimana parliamo di agricoltura, un settore che nonostante la crisi tutto sommato riesce a reggere ancora sia per ciò che riguarda il mercato sia per ciò che riguarda l'occupazione. Sono tanti giovani che vogliono intraprendere anche questa strada, ne parliamo con Damiano Zoffoli, consigliere BD. La Regione cosa può fare anche per aiutare questi giovani? Beh intanto è vero che il settore dell'agricoltura a differenza delle industrie che ha fatto registrare un calo del 3% degli addetti ha una prospettiva di crescita occupazionale pari a 250.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi 10 anni. Ci sono dei problemi però che sono legati soprattutto alla instabilità dei pressi, c'è un problema di burocrazia anche in agricoltura, c'è un problema di innovazione e di nuova ricerca. E quindi se vogliamo che i nostri giovani che attualmente in Emilia Romagna sono 5.500 pari all'8% degli addetti, altri 3.000 potrebbero a breve subentrare ai loro genitori, sempre in agricoltura, rimangono nei campi, rimangono a produrre ed investire in agricoltura, dobbiamo intervenire su questi fattori. Favorire l'accesso al credito, noi abbiamo lo strumento degli agrifidi che è funzionante. Lavorare su un sistema di reddito minimo garantito, penso alle assicurazioni, penso al tema dei contratti di filiere obbligatori su cui l'assessore Raboni sta lavorando. Abbiamo bisogno di favorire l'innovazione, l'ultimo bando che scaderà a marzo del prossimo anno mette a disposizione 3.500.000 proprio per l'innovazione e la ricerca in agricoltura. Sono anche giovani che hanno scommesso sulla multifunzionalità, quindi il tema dell'agritulismo piuttosto che delle agroenergie.